Musica Benvenuti su Telesud e benvenuto al candidato sindaco della città di Marsala, Aldo Rodriguez, per il Movimento 5 Stelle, assieme a due degli assessori designati della sua giunta. Le elezioni amministrative si avvicinano, il tempo scorre, il 4 e il 5 ottobre sono vicini, allora parliamo con il candidato sindaco del Movimento del programma per la città di Marsala. Intanto cominciamo dalla candidatura, con quale animo, con quale spirito di forte iniziativa e di coraggio ha deciso di candidarsi al sindaco per questa città? Io intanto ringrazio per la tua presenza, posso solo dirti che la nostra e la mia candidatura nasce da una volontà del gruppo, espressa con una volontà unanime di candidare chi ha rappresentato in questi cinque anni al Consiglio Comunale il Movimento 5 Stelle. La nostra è stata e sarà una visione di città da qua a dieci anni e vogliamo dare un input e una nuova propulsione a una città che negli ultimi anni ha visto la sua decatenza anno dopo anno. Quindi andremo a cercare di poter migliorare tutte quelle cose che i cittadini si aspettano subito, che possa essere dai rifiuti alla pulizia delle strade, alle pulizie del territorio circostante la città. Tutto quello che riguarda il minuto mantenimento di una città, cosa che negli ultimi anni, il verde pubblico, cosa che negli ultimi anni è stata lasciata un po' così, senza nessuna programmazione, senza organizzazione di base per una progettualità di una città moderna, è una città che dicono essere turistica ma in realtà non lo è. Lavorate già da tempo al programma elettorale, siete stati i primi a presentare la lista, peraltro molto in anticipo rispetto alla scadenza del termine ultimo. Come vi siete organizzati, come avete iniziato a mettere su questo programma per la città? Iana, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo l'obbligo di seguire alcuni step dettati dalla piattaforma Rousseau. Tutto il lavoro che è stato fatto è stato fatto a partire già da ottobre del 2019. La nostra programmazione, il nostro modo di vedere la città parte già da uno studio fatto negli anni precedenti ma che poi si è concretizzato tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020. Perché lì abbiamo dovuto presentare già a dicembre il nostro programma, la bozza di programma e ci richiedevano almeno la metà dei consiglieri e della squadra dei consiglieri già individuata. Noi a dicembre abbiamo presentato 17 su 24. Quindi la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco è stata già abbondantemente presa in considerazione nei mesi scorsi. E la presentazione della candidatura a sindaco della mia persona. Superati questi step e con la certificazione della lista avevamo già tutto pronto per l'elezione. Perché noi non dobbiamo dimenticare che le elezioni erano a maggio e non a ottobre. Quindi già noi a marzo, fine marzo avevamo già tutto pronto. Quindi il fatto di essere stati primi non era altro che rivedere alcune situazioni, moderlarle in funzione di quello che è stato l'ascolto da parte del gruppo nei confronti della città. Perché un buon 40% del programma è stata fatta con i cittadini. Perché per noi la piramide viene capovolta. Cioè il sindaco è sul vertice basso. Invece la base diventa la cosa più importante che è quello di poter sviluppare programmi e idee progettuali dettati dalla gente. Quindi l'essere pronti a una presentazione della lista già il primo giorno per noi era quasi scontato. Ci sono due degli assessori designati. Il candidato sindaco ce li presenta e ci dice anche le deleghe rispettive. Perfettamente. Allora alla mia destra ho l'architetto Nello Livigni e avrà la delega ai lavori pubblici e all'urbanistica. Mentre alla mia sinistra c'è un altro architetto. Io pure sono architetto. Quindi è una squadra di architetti. E alla mia sinistra dicevo c'è Davide Licari che si occuperà di sviluppo economico. Quindi fondi comunità europea e quant'altro. Adesso passiamo anche a loro la parola. Ma prima un'altra domanda. Ovviamente di idee ce ne sono, ce ne devono essere. Per una città che ha bisogno di tante cose. Il problema è poi scontrarsi anche con le disponibilità effettive. Con la liquidità che un comune possiede. Con l'impossibilità di realizzare molte delle cose che probabilmente tutti voi che avete fatto politica in questa città avreste voluto fare. Viana, il mio modo di lavorare lo hai, sei stata testimone in questi cinque anni. Hai visto sempre da parte mia la disponibilità al confronto e all'essere pronto alle richieste e alle istanze del cittadino. Quindi quella che noi abbiamo prefissato, la nostra meta che ci siamo prefissato è stata quella di individuare una parola che deve racchiudere tutto. E questa parola è il come. Il come poter realizzare, poter fare una politica delle risposte. Non una politica del fare, come si è sempre detto e sempre fatto. Noi dobbiamo attuare la politica delle risposte. Le risposte le possiamo solamente individuare se abbiamo un attento studio e un'analisi di tutto quello che sono le richieste che l'Europa possono offrire alla città. E quindi andare a recepire tutti quei fondi che possono essere della comunità europea, che possono essere fondi regionali o fondi statali che possono aiutare alla crescita di una città. Cominciamo con l'architetto Livigni. Allora, per quanto di sua competenza, da dove comincerebbe a lavorare per questa città? Cominceremo sicuramente dalle cose più semplici. Considerato soprattutto il discorso di non avere grosse economie. Le cose più semplici. La città ha bisogno di piccole cose, come primo step. Io ho 40 anni di esperienza nel campo dell'urbanistica perché ho fatto questo di lavoro. Metterò la mia esperienza a disposizione di questa avventura che andiamo a percorrere. Come prima cosa faremo degli interventi di piccola spesa o addirittura costo zero. Modificare alcuni sensi vietati e cose di questo genere potrebbe moltissimo agevolare la circolazione a Marsala. Ci sono delle cose banali da fare che nessuno mai ha fatto. Queste già io professionalmente le ho già studiate perché sia per il lavoro che faccio, sia per la passione che ho. Per queste cose le ho già fatte e ce le ho pure tutte studiate. Dico io però voglio dire noi perché come abbiamo detto il sindaco siamo noi. Noi saremo otto sindaci. Sette assessori più uno aggiunto, il sindaco. Otto sindaci che avranno la libertà di poter decidere nel loro campo ciascuno qualcosa. Questi cinque anni che sono trascorsi con l'ultima amministrazione abbiamo visto un sindaco decidere tutto lui e gli assessori hanno deciso ben poco. Ma non perché è importante che decida l'assessore ma che abbia la libertà di esprimere anche il suo pensiero. Cosa che nell'amministrazione passata non c'è stata. E questo con la vecchia amministrazione. Con l'altra sponda che si porta dietro nuove liste e tutta quella governance che si dice. A questo punto chi deciderà le cose? Ci sarà molta difficoltà in questo campo. Quindi dicevo le prime cose che faremo sono quelle a costo zero o quasi zero. Subito dopo andiamo a intervenire su cose che costeranno un po' di più sulla riqualificazione urbana sia sul discorso di piano regolatore che se ne parla sempre. Oggi ora è uscita la nuova legge regionale che spinge a fare questo piano regolatore che si chiamerà PUG, piano urbanistico generale. Ci cambiamo il nome insomma ma nella sostanza sempre le stesse cose sono. Però a differenza dei piani regolatori del passato non ci sarà più la sperequazione ma la cosiddetta perequazione. Le aree si faranno in modo che abbiano tutti lo stesso valore economico. Cosa che nei vecchi piani regolatore se un'area per fare l'esempio era edificabile accanto c'era l'area destinata ad attrezzature che non si farà mai niente. Cioè una avrà valore 100 l'altra valore 0. Non so se riesco a esprimere il concetto. Quindi con questa perequazione si farà in modo che le aree avranno tutte valore presso a poco uguali. Altre cose da... Solamente la visita che abbiamo fatto... Iana se mi posso permettere questa mattina e altri giorni siamo stati agli uffici a noi comuni che sono gli uffici urbanistiche e l'ufficio tecnico. Assieme a Nello abbiamo parlato con gli operatori del settore e abbiamo capito quale siano le difficoltà in questo momento di organizzazione degli uffici. Abbiamo visto una mancanza di personale di poter sviluppare un lavoro che possa permettere all'utenza di non avere delle difficoltà in essere. Che a tutt'oggi purtroppo c'è. Quindi hai tutti i colleghi, architetti, ingegneri, geometri e quant'altro che sono fruitori di quegli uffici. Dare la possibilità di riorganizzare quel settore in modo tale da poter dare un servizio più snello alla città. Oggi ci siamo accorti facendo questa visita e abbiamo visto cosa significa catalogare tutte le pratiche. Ci siamo accorti di quale difficoltà ci sono nel poter guardare pratiche degli anni passati. Perché nei vari spostamenti che ci sono stati negli uffici questa situazione ha provocato negli anni un distesso totale. Quindi non c'è più un'organizzazione all'interno. Quindi faremo in modo da creare dei progetti atti a poter sviluppare e a poter mettere a regime tutta questa situazione che è di base a un settore ad oggi un po' deficitario nei tempi per quanto riguarda l'esplicitamento delle pratiche. Passiamo all'architetto Licari. Io mi occuperò di sviluppo economico, quindi di attività produttive e turismo. Faccio un passo indietro e mi ricollego a quello che ha detto poc'anzi Aldo e poi anche a quello che ha detto Nello. Parlare di sviluppo economico significa comunque conoscere profondamente il proprio territorio. Noi infatti abbiamo iniziato ormai più di un anno fa una fase importante che è la fase di ascolto che consente di recepire quelle che sono le problematiche in essere, le esigenze e quindi le istanze dei cittadini. A partire da questa fase di ascolto abbiamo delineato di conseguenza sia una finalità complessiva del programma sia cinque macro aree di intervento che poi rappresentano anche le nostre cinque stelle, ovviamente mutuate sul territorio. Perché è importante questo? Perché lo sviluppo di una città a maggior ragione, ricollegandomi anche a quello che diceva Nello Pocanzi, in funzione alla programmazione di uno strumento urbanistico che è nuovo, la nuova legge urbanistica Pug, il piano urbanistico generale, è essenziale perché se non si ha una visione di sviluppo, in questo caso il nostro programma ha una visione a dieci anni e ovviamente con dei risultati da ottenere nel breve, nel medio e nel lungo termine, quindi anche i risultati che si otterranno nel primo quinquennio, se non si ha una visione complessiva è impossibile poter accedere ai fondi, sia ai fondi diretti della Commissione europea, sia ai fondi indiretti, quindi infrastrutturali e quindi della regione siciliana, sia ai fondi nazionali, per non parlare poi dei fondi della cooperazione internazionale. Ogni azione, ogni progetto che si potrà fare da qui al futuro, tiene conto quindi delle esigenze dei cittadini, delle problematiche che sono state manifestate, in una chiave unica, in un'unica idea, in una vision di sviluppo economico che vuole portare a Marsala al 2030. È facile, tutti quanti, anche gli altri, parlare di turismo, è facile parlare di turismo, lo diceva anche Aldo in qualche altra intervista, però la città in questo momento non è una città che ha i servizi turistici. Se andassimo ad analizzare le cinque aree, è facile capire che nella primaria reti di comunicazione, quindi strade, ferrovia, porto, aeroporto, piuttosto che reti idriche, reti fognarie, reti elettriche, tutte le reti, ma anche le reti di connessione, wifi, quindi internet, banda larga. Marsala, da questo punto di vista, che è una città territorio, con oltre 100 contrade, che abbiamo immaginato di dividere in 10 frazioni, è una città complessa e complicata, e che non ha, in questo momento, delle reti di comunicazione adeguate, per poi poter diventare città turistica. Dovessimo declinare tutto il programma, il secondo punto riguarda le attività produttive. Immaginare artigianato, commercio, industria, agricoltura, servizi del terziario avanzato e quindi turismo, come un'unica cosa, è sicuramente rivoluzionario rispetto allo stato attuale, perché sono tutti comparti separati. Nel nostro programma immaginiamo invece l'integrazione di queste aree, in maniera tale da offrire al turista come al cittadino, un'unica piattaforma, che sarà multimediale, visto che, tra l'altro, anche il Recovery Plan, che dovrà essere predisposto dal Governo per accedere al Recovery Fund, quindi ai fondi della Commissione ottenuti dalla mediazione del Governo Conte, e quindi l'economia digitale, tutto quello che ha a che fare con anche l'economia circolare. In questa visione, un'unica offerta consente di accedere anche a questi fondi. E così via, per quanto riguarda l'area del welfare locale, dove abbiamo la stessa idea di fare massa su una piattaforma e quindi consentire attraverso questa piattaforma l'accesso ai servizi sociali, così come l'area che riguarda la riqualificazione urbana e ambientale o l'area che riguarda la cultura, cioè le nostre 5 stelle. Infatti poi abbiamo anche 5 hashtag che identificano proprio queste aree tematiche. Quindi si va dalla Marsala città-territorio accessibile, per quanto riguarda le reti di comunicazione, Marsala città-territorio sostenibile, per quanto riguarda invece la riqualificazione urbana, solidale per quanto riguarda il welfare, accogliente per quanto riguarda la cultura e produttiva per quanto riguarda appunto la filiera delle attività produttive, perché si intendono integrate tra di loro. Torniamo al candidato sindaco. Quindi si è detto questa sera che nella vostra visione ci sono 5 più 5. Voi pensate al 2030? Sì, perché l'idea è quella di far in modo che il turista che venga a Marsala deve avere un'esperienza territoriale abbastanza ampia e aperta. Infatti, poco fa quando Davide parlava della piattaforma, noi l'abbiamo identificata come MISE, cioè Marsala is experience, cioè l'esperienza che il cittadino o il turista deve avere del rapporto con la città, deve essere un rapporto sinergico aperto a 360 gradi, che gli possa permettere in qualsiasi posto e in qualsiasi luogo lui si trovasse sul territorio marsalese, tramite un'applicazione, tramite i nuovi esitazioni, strumenti come un semplice telefonino, poter con una semplice applicazione capire in quale posto si trova, cosa può vedere in quel posto e cosa potrebbe vedere nelle vicinanze. Quindi questa è una situazione di multimedialità che noi vorremmo dare alla città, quindi un'espressione moderna della città proiettata verso il futuro. E' un progetto ambizioso? Noi siamo ambiziosi. Quindi stiamo cercando di mettere in atto quello che è una visione diversa di quello che è stata una visione stantia e vecchia della città, con una politica fatta delle solite cose e della solita pasta, diciamo. Noi vorremmo mettere un ingrediente in più in quella pasta che potrebbe dare la possibilità a tutto il mondo, saremmo troppo aperti, ma quantomeno dare la possibilità a chi vuole venire a Marsala di avere un'offerta a 360 gradi, come ho detto io poco fa, perché dobbiamo dare... Marsala non è solo vino. Marsala è cultura, Marsala è architettura, Marsala è agricoltura, Marsala è aziende economiche ben specificate nel settore, che possa essere il settore florialistico o il settore ventini vinico. Cioè mettere in sinergia tutte quelle esperienze che possono portare al turista a dire ah, sono capitato sul posto giusto. Marsala è una città di mare. Marsala è una città di mare, senza dubbio. Anche perché questo rapporto col mare noi lo abbiamo anche applicato sul fatto che anche le scelte che noi abbiamo fatto sui candidati del Consiglio Comunale abbiamo messo anche degli imprenditori del settore, in modo tale da far capire e capire quale sono le esperienze di queste persone e quale supporto e apporto possono dare alla città. Che esperienza è stata in sintesi quella del Consiglio Comunale? Come si può sintetizzare questo percorso di cinque anni? Per me è positivo perché ho incamerato un'esperienza tale da poter studiare e decidere assieme agli altri la mia candidatura. L'esperienza fatta nelle varie commissioni in una dove ero presidente della commissione accesso agli atti che è una commissione abbastanza importante e tu lo sai benissimo perché vai a studiare tutti gli atti che le varie amministrazioni e l'amministrazione ha prodotto in modo tale da sviscerarle e eventualmente se ci sono delle lacune riuscire a capire quale siano le mancavolezze. Ma quella che mi ha dato la possibilità di crescere anche da un punto di vista personale e professionale è stata io potevo fare una scelta molto semplice e banale che poteva essere quella di scegliere una commissione come lavori pubblici e urbanistica io non l'ho fatto volutamente e ho voluto dare il mio apporto a una commissione che era la commissione del bilancio perché il bilancio di una città è il perno fondamentale cioè è lì che tu vai a capire quale possono essere le risorse che possono dare uno sviluppo alla città oggi ancora di più perché il bilancio che io sono stato nel passaggio fra il bilancio normale delle amministrazioni che si erano fatte fino al 2013 circa no scusami dal 2017 si è passato a un bilancio armonizzato il bilancio armonizzato è molto più complesso molto più articolato che si dà la possibilità ai vari settori di esprimere e di programmare una città programmandola con tutto quello che deve essere fatto nell'anno e nei tre anni successivi perché il bilancio armonizzato lavora proprio sul triennio quindi l'andare a studiare tutti questi atti prepoteutici all'approvazione del bilancio mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente sotto questo aspetto cosa importante e mi rialancio se mi dai oltre due minuti l'idea è quella che ho già fatto perché come consigliere comunale ho presentato un atto di indirizzo che era relativo all'applicazione del bilancio partecipato che la regione Sicilia già dal 2017 ha detto obbligando le varie amministrazioni ad attuare cosa è che questa amministrazione anche dentro la mia sollecitazione non ha fatto tant'è vero che la prossima amministrazione si troverà sul gruppone una delle contravenzioni fatte alla regione Sicilia che partono dal 2017 al 2018 al 2019 già nel 2017 partiremo con un debito fuori bilancio di 29 mila euro quindi già questo è sintomo di una scarsa applicazione delle norme da parte dell'amministrazione precedente su quello che è un bilancio partecipato perché si dava la possibilità soffrendo del 2% del bilancio armonizzato di far sì che la gente e il cittadino possano partecipare alla realizzazione del bilancio quindi quella parte del 2% poteva essere attuata con le stanze del cittadino esempio banale se un cittadino della contrada di Strasatti riteneva opportuno aumentare la possibilità di avere più corse per quanto riguarda la mobilità interna su ruote quindi l'acquisto di qualche autobus in più con il bilancio partecipato e l'investimento del 2% si potevano acquistare due mezzi in più invece noi li dovremmo andare a pagare come penalità non so se sono stato chiaro chiarissimo che riscontro avete da parte delle persone dei votanti morsalesi rispondo io o volete rispondere voi il risponso è positivissimo perché stiamo dimostrando che siamo gente comune ecco l'immagine che vogliamo dare è quella reale quella che realmente siamo quella di persone che si prestano e si attivano alla politica in senso non in senso astratto ma in senso lato a un crederci alla politica forse perché nel tempo questo rapporto con la politica la gente l'ha perso quindi noi vogliamo trasmettere fiducia e trasparenza nel modo di agire nel modo di fare nei confronti del cittadino che deve essere parte integrante e parte importante del nostro programma e dell'intera città non possiamo che concludere con un appello al voto quindi no sembrerebbe riduttivo dirlo ma se volete veramente un cambiamento della città e volete qualcosa di diverso che non sia una vecchia politica stantia noi del Movimento 5 Stelle e io come candidato al sindaco del Movimento 5 Stelle potrò dare e potremmo dare un diverso appeal alla città quindi credeteci credete a un rinnovamento della città noi siamo qui siamo qui ad aspettare voi che ci aiutate a questo radicale cambiamento della vita amministrativa della città e noi ringraziamo il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Aldo Rodrigo e i suoi assessori designati gli architetti Livigni e l'Icari in bocca al lupo vive il lupo vive il lupo